Il marketing è un prodotto che non è pronto, sarà pronto tra due anni, ha raccolto 200.000 preordini a 100 dollari, quindi ha fatto 20 milioni di incasso, con una presentazione facendoti vedere un veicolo che ha un prototipo, gli si sono anche alti metri e il design del veicolo è il marketing, è come il gioco di magia quello lì, è il design che fa parlare il mondo, se lui avesse fatto vedere un'auto fighissima, ma normale, chi se lo filava, invece è wow, quindi è uno stunt di marketing per un prodotto che forse arriva tra due anni. Se io ragiono lato comunicazione, inizio a pensare che cosa mettere dentro al tour che sia comunicabile, che sia interessante. Grazie.